Buonasera, a livello personale penso che una partita a porte chiuse senza tifosi sia la cosa più brutta che possa succedere. Lei che ne pensa? Una novità anche per me, perché cosa non dobbiamo fare è prendere questa partita come una partita amichevole, perché il rischio c'è, dobbiamo essere svegli, dobbiamo dare a noi anche quegli stimoli necessari che svegliano e tengono squadra pronta per 90 minuti. Nel pericolo c'è anche quello di valutare comunque il risultato dell'andata? No, questo ho parlato da primo giorno già con i ragazzi, che noi dobbiamo entrare in campo senza avere troppi pensieri sulla partita che è dietro di noi. Dobbiamo affrontarla come partita unica, andare per vincere e sicuramente non sottovalutare, perché abbiamo visto anche ieri sera, come si è visto anche contro Fiorentina, i risultati di 2-0 sono recuperabili. Gestirà un po' il gruppo, le forze della squadra, visto che poi insomma c'è l'impegno di Domenica contro il Torino, oppure come ha sempre fatto fino adesso il prossimo obiettivo è quello più importante, quindi va in campo comunque la squadra migliore? No, se ci sono possibilità faccio questi cambi o cambio ragionato, ma in questo momento veramente non ho possibilità di fare certe scelte, rosa è molto stretta, arrivano diversi anche giovani dalla primavera, così che sicuramente in questo momento scendono quelli migliori. Microfono, prego. Mister Hernanes, domenica salterà il Torino per squalifica, ha bisogno di riposo e salterà anche domani o invece lo vedremo in campo proprio perché domenica non c'è? Sicuramente Hernanes è uno di quelli che ha giocato maggior parte dei minuti e già ha sorpassato quelli minuti che ha fatto l'anno scorso. serve aiuto soprattutto dopo questo infortunio che ha avuto perché da lì ha praticamente giocato tutte le partite, ma penso che lui è pronto e si sente pronto e verifico ancora domani quanto è porto e se può dare questo appoggio alla squadra e essere utile per la squadra. Se sarà così potrebbe anche giocare questa partita. Mister, come sta Dias? Se è pronto per giocare dall'inizio domani e anche le condizioni di Ederson? No, Dias probabilmente non sarà convocato perché ha problemi che non vogliamo neanche rischiare, non è sicuro neanche per Torino. Questo è un bel dubbio perché dobbiamo tenere duro queste due partite, uscire, ottenere il massimo perché dopo c'è la pausa. Dias non ci sarà, Ederson dovrebbe starci ma da lui sono un po' altri problemi, deve convincere anche stesso in certi momenti anche con capi pesanti come è successo l'ultima settimana perché lì ci sono piccoli blocchi mentali che portano anche che si soffre un po' di più e che arrivano anche i crampi. Buonasera Ministro, come se la spiega lei questo fatto che in Europa la squadra va benissimo e in campionato invece sono arrivate due sconfitte? È vero avete giocato contro due grandi squadre, il Milano e la Fiorentina, però anche il rendimento della Lazio è sembrato un po' diverso da quello che invece c'è in Europa League. Come mai secondo lei? Ma non ci sono spiegazioni, l'unica spiegazione o se si vuole prendere una piccola scusa che arriviamo da due partite dove abbiamo giocato bene, dove abbiamo viaggiato, tornato durante notte, abbiamo fatto poco recupero e queste sono cose che alla fine dopo tutte queste partite che abbiamo fatto fino adesso, non è solo questa partita ma è accumulo delle fatiche che abbiamo fatto fino adesso, si pagano e come ho detto già altra volta questi primi 15-20 minuti di primo e secondo tempo sono sempre difficili di gestirli, di riprendere quello ritmo e abbiamo pagato anche in queste due partite ma due partite diverse anche contro Milano e Fiorentina dove abbiamo avuto anche noi le nostre possibilità di girare il risultato se contro Fiorentina si girava quegli ultimi 15 minuti di primo tempo, se segnavamo forse andrebbe, ma controprove non ci sono anche a Milano, a Milano contro Milano questi dopo 15 minuti rimanere in dieci non è facile, soprattutto non è facile in queste situazioni come ho evidenziato. Vecina vede lei durante gli allenamenti o parlando con i suoi giocatori che le fa ritenere questo momento una parentesi e che la Lazio tornerà quella brillante e soprattutto a fare i risultati che ha fatto per larga parte di questa stagione? Penso che alla fine manca veramente poco per ottenere risultati e tutte queste partite dove non abbiamo perso punti potevamo anche tranquillamente prenderli e lì girano certe situazioni che abbiamo avuto contro di noi dove non abbiamo segnato o subito dopo errori individuali, dopo altri errori, ma io vedo la squadra viva, vedo squadra volontarosa che tutti gli allenamenti dà tutto e è pronta di soffrire anche fino a fine del campionato e sono sicuro che questo dimostrerà e tutto questo che abbiamo fatto fino ad adesso è eccellente, questo è il distacco di un paio di punti dal terzo posto, dal secondo posto sei punti, sono niente, allora è tutto aperto e tutto è davanti a noi. Salve mister, buon pomeriggio salve. Senta, volevo una valutazione sulle ultime prestazioni di Onazzi e se alla luce di queste partite c'è possibilità di vederlo dal primo minuto domani. No, ma come tutti i giovani ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole ogni tanto anche frenare o spingere questi giovani, ma sempre per metterli in posizione che saranno a posto con la testa e penso in questo momento Onazzi è a posto, sta dimostrando sul campo e sicuramente avrà suoi minuti anche per dimostrare per il futuro. Buonasera mister, vorrei sapere se secondo lei Lulic potrebbe giocare anche a destra eventualmente nel ruolo di difensore, visto che quest'anno spesso ha fatto anche il terzino. Potrebbe, sì sicuramente perché è un giocatore polivalente, è strano, è un ambidestro, ma si trova un po' meglio, ha giocato maggior parte della sua carriera su parte sinistra, ma potrebbe anche tranquillamente, avendo tempo a disposizione, ad azione, tutto quanto, giocare anche su parte destra. Buonasera mister, vedendo quello che sta facendo quest'anno la sua squadra in Europa e vedendo anche che insomma sono rimaste avversarie forti, ma nessuna imbattibile almeno sulla carta, lei pensa che questa squadra quest'anno possa davvero arrivare fino in fondo in Europa? Ma come per campionato, come prima è stato anche in Coppa Italia, non vado così lontano, vado fino a finire questa partita di domani, cercheremo di onorarla e onorarla in modo positivo, tentare di vincere e passare il turno, dopo vediamo perché. Tutte queste squadre sono molto importanti che rimaneranno in competizione, ma nessuna è imbattibile e questo si è visto anche fino adesso, e noi tentiamo arrivare più alto possibile, come tenteriamo fare in campionato e anche in finale della Coppa. Poi prima ha detto che insomma non è facile gestire così tanti impegni, si gioca spesso il giovedì, si ha un allenamento per preparare, ultimamente sta ruotando molto i suoi giocatori, c'è un giocatore che praticamente però non si è mai fermato, che è il Radu, voglio sapere come sta e se anche per lui sta pensando comunque magari di fargli tirare un po' il fiato, magari già dalla partita di domani. Domani sarà difficile perché Radu sta bene, sta bene anche fisicamente, io cerco di riposare questi giocatori che potrebbero avere qualche acciacco di più o rischio di infortunio e in questo momento Radu non dimostra essere quello, ma per Radu, come per tutti gli altri, sarebbe molto importante non andare per la Nazionale perché queste due settimane se qualcuno va e fa viaggi come deve fare anche Gonzales, andare in Sud America a giocare due partite o Radu che dovrebbe andare due partite a fare in Europa, sicuramente non facilitano questo recupero o proseguono nel campionato, ma per Radu sono ottimista e ha dimostrato anche fino adesso che è affidabile anche sul punto di vista fisico. Per fare una domanda a Biava.